togli e non aggiungere togli e non aggiungere allora date un'occhiata a questa slide senza sapere esattamente di che cosa stiamo parlando non importa però c'è tanta roba già occhio così c'è tanta roba c'è tanta roba e quindi ci viene il sospetto che forse bisognerebbe togliere qualcosa vediamo se è vero perché qui dice ora riprendiamo i numeri naturali e ora riprendiamo a contare in senso inverso 1, 2, 3, 4 poi vedete ci sono dei puntini, dei puntini poi arriva a 1.500 sotto c'è la spiegazione che dice aggiungendo 1 ad un numero naturale anche grandissimo otteniamo sempre il suo successivo i numeri naturali partono da 0 e sono infiniti il fatto di avere troppa roba ha indotto in alcuni errori perché? perché siccome c'è tanta roba qui dentro bisogna delimitarla ed è stata delimitata in modo sbagliato perché questo numero 1.500 non è infinito se noi avessimo tolto da qui 1, 2, 3 e avessimo lasciato solo l'ultima freccia con i tre puntini avremmo dato l'idea di infinito avremmo tolto degli elementi non essenziali e questa parte sarebbe stata più chiara invece nella foga di riuscire a far capire che cosa vuol dire andare avanti all'infinito guardate che errore razza di errore è stato fatto cioè è stato dato è stato dato un termine all'infinito è forte questa cosa ma vedete non è cioè non lo dico perché ci sono delle regole chissà quali da seguire eccetera lo dico ridendo con ironia perché? perché dietro qui c'è veramente l'interesse da parte questa è un'altra casa editrice cioè veramente l'interesse da parte dell'editore o degli insegnanti che hanno collaborato di riuscire a far capire meglio le cose non c'è nessuna volontà di complicarle ma il non conoscere quali sono le regole fondamentali della bellezza della bellezza nella composizione e nell'attenzione al processo cognitivo proprio di apprendimento beh porta a fare degli errori in perfetta buona fede cioè credendo di aver realizzato un grande risultato invece noi dobbiamo ragionare con semplicità le cose più semplici il modo di porle nel modo più semplice possibile quello è un grande risultato si toglie se qualcuno di voi ha seguito qualche non so corso di scrittura scrive sa benissimo che la grande regola della letteratura americana è togliere e togliere lasciare che ci sia l'altro che interviene con il suo immaginario nella scrittura cioè nella lettura e quindi dia il suo contributo poi che cosa fa qui guardate questo poi è veramente la ciliegina perché dice sottraendo uno ad ogni numero naturale tranne lo zero otteniamo sempre il suo precedente nessun numero naturale viene prima di zero però questo non è rappresentato qua è rappresentato solo a senso unico perché non c'è perché secondo me arrivato a questo punto si è reso conto di aver fatto troppo ma siccome questi due concetti sono collegati allora e lo spazio limitato non ha ripreso lo stesso grafico in senso contrario ma l'ha lasciato a una pura concezione astratta poi vedete ci stupiamo del fatto che i nostri ragazzi hanno difficoltà a comprendere la matematica ovvio perché se queste sono le procedure di insegnamento nelle quali la rappresentazione grafica è sbagliata si uniscono dei concetti si rappresentano dei concetti in modo sbagliato e si uniscono tra loro concetti differenti senza che il primo livello di astrazione sia raggiunto e senza verificare che questo primo livello di astrazione sia raggiunto cioè il moto in senso orario del procedimento di numerazione è chiaro che noi complichiamo molto l'apprendimento anche se tutto questo è nato guardate per invece uno scopo opposto assenza di interazione perché ho scritto assenza di interazione è certo perché non c'è interazione tra questi tra questi meccanismi cioè non c'è una vera composizione fondata su un'interazione sono buttati lì senza una chiara interazione non c'è